San Lorenzo Reggio di Calabria avviva il primo Consiglio Comunale dell'Amministrazione Russo. Servosto di risera a San Lorenzo nella sala consigliare di Palazzo Rossi, primo Consiglio Comunale guidato dal nuovo Sindaco Bernardo Russo, eletto lo scorso 31 maggio. Dopo gli adempimenti di legge, cioè esame di compatibilità, candidabilità e legibilità del Sindaco eletto e dei consiglieri comunali, giuramento del Sindaco, Russo ha nominato gli assessori mentre il Consiglio ha nominato la Commissione elettorale comunale. E' stato eletto Presidente del Consiglio Carmela Battaglia. La delega invece di Vice Sindaco è andata a Sergio Gualtieri mentre Giuseppina Culli, Presidente a San Pantaleo, è stata nominata assessore.